Siamo in 4, siamo in 20 Ora Francesca facciamo una cosa Tutti noi Brava Marco Dai ragazzi Dai ragazzi Passione Rosa Dai passione Grazie Giù Giù Dai Massimo Passione Passione Dai comincio Ciappacchi Passate 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 Grazie No Ma Stefano E infatti E adesso Ok Andra Ma No No L'ultima Ci sono lette 3 L'ultima Agliano Che cavolo Qui è il cervello No Fotografo